Weeeh! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weeeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a video! Io sono XIUDER e ragazzi sfide catastrofico atterrare ad un rifugio e ad un maniero abbandonato. Quindi ragazzi è davvero semplicissimo il rifugio degli eroi e quello vicino a rifugio ritirato siamo qua mentre il maniero abbandonato non è altro che quello vicino a spiagge ragazzi dove c'è praticamente la vecchia casa dei cattivi. Io vi ringrazio per aver guardato questo video spero vi sia stato di aiuto un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto! Ciao! Non mi parte l'altro! Ciao!